Buonasera e benvenuti alla TG Nord. Non potremo più accettare da Roma lo stop ai finanziamenti per le infrastrutture della Lombardia. Non accetteremo più che le opere si fermino per mancanza di finanziamenti. Così il governatore Lombardo Roberto Maroni intervenendo questa mattina all'inaugurazione del nuovo tratto della strada statale 38 dello Stelvio in Valtellina. E' sempre il presidente Maroni intervenuto ieri invece alla direttivo della CISL. Diversi i temi trattati per quanto riguarda le politiche del lavoro. A margine è rilasciato anche un'intervista in cui ha annunciato che il ministro Lorenzina ha firmato l'accordo di programma sulla città della salute. Mi è stato un piacere che il ministro ha firmato bene. Era la firma attesa e quindi può partire il progetto come avevamo previsto. C'è stato un blackout informativo che però è stato risolto grazie all'impegno del ministro con cui ho parlato ieri e oggi. Quindi stasera il Consiglio Comunale di Sesto potrà ratificare e partirà tutto come previsto. È un impegno forte della regione, del ministero, degli enti locali. Sono molto soddisfatto che si sia conclusa finalmente la fase preparatoria. Adesso partiranno le bonifiche a settembre e con i tempi previsti si procederà alla realizzazione di questa che è un investimento rilevante per la regione Lombardia e un'altra struttura di eccellenza quando sarà realizzata. Si è parlato tanto di trasferimenti e risorse. A che punto siamo con l'obiettivo del 75%? Pensare che il governo di Roma sia disponibile a trasferire, a lasciare tutte le tasse in Lombardia è un pensiero utopistico. Dobbiamo lottare per questo e ci stiamo attrezzando per farlo perché l'obiettivo è l'obiettivo di legislatura, come è scritto nel programma di governo e risolve tutti i nostri problemi. Quindi questo è l'obiettivo principale che io ho e voglio creare una grande alleanza dei territori perché Roma capisca che questo è utile per noi ma è utile per tutte le regioni. Non è il ragionamento del nord contro il resto d'Italia, ma è potenziare la locomotiva perché tutti gli altri vagoni ne abbiano un beneficio. Se Roma capirà finalmente che questo è utile per tutti avremo risolto il problema. Cercherò di farglielo capire. Vale dire anche sulla sanità a Roma in conferenza del Stato e Regioni. Lei ha parlato di modello lombardo virtuoso però ancora sembra che non sia così perante. Sì, ho visto che il governo ieri ha fatto il decreto sulle regioni benchmark a cui fa riferimento e la Lombardia è quarta. Peccato che le prime tre regioni hanno ricevuto contributi dal governo per ripienare i conti e la Lombardia no mai. Quindi mi pare strano che vengano indicate come benchmark regioni che non hanno fatto come l'ha fatto la Lombardia. Cioè un governo dei conti senza sforare. Chiederò spiegazioni al governo giovedì c'è la conferenza delle regioni e ribadirò che al primo posto ci deve essere la Lombardia. A meno che il principio sia care regioni sforate pure che poi qualcuno pagherà. Non sono d'accordo su questo principio e quindi credo che sia trattato di un errore.